Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'incarico che dice completa compiti in partite spie come noi. Dovete avviare questa modalità e tutto quello che dovete fare è praticamente interagire con 25 di questi oggetti, quindi vi avvicinate e tenete premuto il pulsante. E dovete farlo 25 volte, quindi andate in giro per la casa, trovate tutti gli oggetti di quel tipo, tipo questo, e interagite in questo modo qua. Quindi lo fate 25 volte e la sfida è completata.